Marianna, chi gira un po' questi temi e questi ambienti di co-working, perché la fondazione si occupa molto di questo, in questi anni ha sentito parlare, sono nati come molto di più dei funghi che sono quanto meno nascosti, ho tenuto i segreti giustamente dai cercatori. In montagna un po' meno, che ruolo ha un co-working? Rispetto a questo tema dell'abitare e ospitare. Allora innanzitutto buonasera anche da parte mia, grazie dell'invito e devo dire che ho imparato tantissimo oggi, ho preso un sacco di spunti e parto da uno spunto che è un po' comune a tutti, parto dalla questione Covid. Il Covid che ha posto in tutte le nostre comunità tanti interrogativi, però dobbiamo sempre guardarlo in positivo, perché da tanti interrogativi sono nati tantissime opportunità. Noi come Cassa Rurale Alta Valsugana, insieme ad Impact Hub Trentino, siamo andati a fare quello che stiamo facendo oggi, siamo andati ad ascoltare i territori e dai territori sono emerse alcune necessità. In primo luogo la flessibilità, flessibilità soprattutto richiesta al mondo del lavoro, sempre una necessità di territori, lavoro di prossimità, che è molto legato poi a un tema comune a tutti, che è il tema della sostenibilità e infine la necessità di rivedere una comunità, di rivedere, di ricreare una comunità che se vogliamo è stata fortemente colpita dal Covid. Ecco che allora, un po' alla volta, sono nati degli spazi di co-working. Prima è nato lo spazio a Levico, poi a Tenna, a Vigolo e a Civezzano. Adesso stiamo aspettando, dovrebbe essere da qui a pochi mesi, anche lo spazio di co-working a Pergine. Tengo a sottolineare questi luoghi perché non sono Trento, sono dei luoghi, dei comuni, spesso non, diciamo, centro-città. E quindi vanno a valorizzare dei luoghi, vanno a valorizzare, come diceva giustamente Tania, anche tutto il contorno. Quindi non solo lo spazio, ma anche il bar, la cooperativa e creano comunità. Giusto per darvi qualche dato per capire l'importanza di questi luoghi. Noi parliamo adesso di più di 30 utenti, ma in realtà le persone che gravitano attorno agli spazi di co-working sono ormai più di un centinaio. E sono persone, guardate bene, che non sono solamente persone autoctone, le persone trentine, ma sono persone che provengono da tutte le regioni d'Italia, ma non solo. Perché ormai c'è, diciamo, il fruttore di ritorno, i famosi cervelli in fuga, ok, che durante l'anno spesso lavorano anche all'estero. L'estate, con la scusa di ritornare a trovare i propri genitori e parenti, ritornano e lavorano agli spazi di co-working. Per cui direi che una delle parole chiave degli spazi di co-working è comunità. Comunità veramente a 360 gradi, perché non è solamente uno spazio di lavoro. Quando ci sono persone che pensano, sono anche persone che creano, si trovano, chiacchierano e creano veramente comunità. Abbiamo attivato tantissime collaborazioni, Tania è un esempio, e sicuramente questo è solo un semino per il futuro. Abbiamo collaborato con le APT, abbiamo collaborato con le amministrazioni comunali, abbiamo collaborato con la federazione, con la provincia. E l'idea è di creare una rete sempre più sinergia con tutti gli attori del territorio. E poi abbiamo investito moltissimo sui giovani, li abbiamo resi ambasciatori del territorio, li abbiamo formati. Abbiamo detto loro quanto bello è il nostro Trentino, perché dobbiamo dirlo, e dobbiamo anche raccontarlo verso l'esterno. Stiamo investendo sulle donne imprenditrici, ma anche sulle start-up, perché abbiamo creato dei momenti di confronto e di formazione per tutti gli start-upper. Infine, non si può parlare di innovazione, di novità, se non si parla di formazione. Abbiamo creato un percorso di nove mesi denominato Academy, in cui in ogni mese abbiamo dedicato un argomento diverso. Abbiamo coinvolto professionisti che lavorano all'interno degli hub, ma anche professionisti provenienti da varie realtà, proprio per ampliare la rete, per migliorarci, per imparare da realtà esterne. E l'abbiamo conclusa con un evento, lasciatemi dire, un po' simbolico. L'ultimo mese, che era giugno, era dedicato all'ambiente, che ripeto è un tema che ho sentito tante volte oggi nominare. Abbiamo coinvolto tutte le scuole del territorio, abbiamo coinvolto più di 2000 bambini, che si sono impegnati nella giornata del 5 giugno, che è la giornata mondiale dell'ambiente, a fare delle azioni concrete. Questo per dire, e con la speranza, che quei bambini, un domani saranno i futuri amministratori, saranno i futuri co-worker e magari li vedrò seduti qua in prima fila. Ottimo, grande Mariana, molti spunti e dà un po' di vita anche a quel concetto, a volte è solo fatto di muri, che sono i co-working, invece dentro i muri ci devono essere le persone, se no quelle cose non servono a nulla e ci hai dato un buono spunto. Grazie a tutti.